Vabbè, vecchissima figura di merda, chi lo sa? Un scombrettino, ma chi lo sa? Vediamo che succede. Ma, su non vieni. Già. Grazie. Buono, è buono. Buono, è buono, è buono. Faccio un lancio laterale, lo faccio di là. Recupero, così. Recupero regolare, sbanda. Vabbè, insomma. Tu non vada. E questo già è il 50%. E va bene anche se salta. Salta, no. Eh no. Poi esagerare. No, no. Sardino. Va bene, va bene, va bene. Vediamo il video come va giù. Sbanda, Sindra. Vedi che sbanda? Tungu, 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 tungu. Oh, questo va proprio bene, va. Visto. Non è? Tutto a posto. Sardiamoci. Vai. Giù. Questo va bene. Questo va bene. Tu, 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 tu. Vabbè. Non aspetto. Non aspetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.